Domenica al Nerea arriva la Termalabano e per i tifosi biancorossi non si tratta di una semplice partita. Quella con i Veneti è la partita che potrebbe consegnare ai ragazzi di Marco Cari il ritorno tra i professionisti dopo una stagione di purgatorio all'insegna dei record e con quattro giornate d'anticipo rispetto alla regolare conclusione del campionato. C'è fermento tra la tifoseria, i supporter biancorossi si preparano ad una domenica di festa mentre la società di Piazzale del Popolo in gran silenzio, per scaramanzia ovviamente, ha già pronta la serata in onore dei suoi ragazzi in un noto locale della Riviera. I tifosi si ritrovano sotto la curva est del Nere alle 11 per pranzare insieme a base di Piade e Sardoncini. Il clima è quello delle feste che si devono ricordare dopo il pari pre-Pasquale al Manuzzi con il Romagna centro e quel gol di Di Maio in pieno recupero che ha allungato di 10 giorni i festeggiamenti. Domenica il Rimini affronta alle 15 la Termalabano conoscendo già il risultato di Correggese Ribelle anticipata sabato per la finale di Coppa Italia che vedrà i reggiani scendere in campo mercoledì prossimo. Un vantaggio anche psicologico per i romagnoli che affronteranno un avversario privo di vitaliano e franciosi squalificati per un turno dal giudice sportivo e in caso di vittoria sarebbero comunque certi del ritorno tra i professionisti indipendentemente dai risultati delle dirette concorrenti.